L'unico complotto è quello di Fioretti contro i lavoratori di questa regione. Attendono migliaia di persone, di lavoratori e di famiglie, da mesi, da settimane la Cassa Integrazione in deroga. Parliamo di decine di migliaia di lavoratori che in un momento così forte di crisi e di disagio sociale non hanno le risorse perché dapprima questo governo regionale così lento, con a capo l'assessore Fioretti, ha processato l'istruttoria con estrema lentezza. Solo dopo le nostre ripetute denunce hanno snellito quelle procedure di istruttoria ma non hanno fatto alcun tipo di accordo con le banche e quindi i lavoratori non hanno ancora visto nessun euro della Cassa Integrazione in deroga. Infatti per poterla usufruire più rapidamente occorreva assolutamente procedere con l'accordo in anticipazione con gli istituti di credito e poi il rimborso agli stessi istituti di credito così come è avvenuto in altre regioni italiane. Quindi la responsabilità è solo del governo della Giunta Lente e dell'assessore Fioretti. Noi denunceremo fino a quando l'ultimo euro arriverà in tasca all'ultimo delle migliaia di lavoratori e delle migliaia di famiglie che attendono. È una vera e propria vergogna quello che sta avvenendo attorno alla Cassa Integrazione in deroga.